Una perturbazione in transito sul nord Italia porta un aumento dell'instabilità con la possibilità di temporali sul nord-est in estensione alle regioni centrali adriatiche in serata. Dalla giornata di lunedì miglioramento con venti di tramontana freschi. Lunedì 22 agosto in Toscana in mattinata residui e densamenti sui settori orientali. Cielo sereno poco nuvoloso dal pomeriggio. Venti moderati, mari mossi, temperature minime lieve calo massime in diminuzione nelle zone interne in aumento lungo la costa. Cielo sereno poco nuvoloso su tutta la provincia di Lucca. Nella piana temperatura minima prevista 15, massima 30 gradi. In Versiglia minima 18, massima 25. In Garfagnana minima 11, massima 27 gradi.